Bruno Vespa sceglie la Puglia per una passione antica, il vino nella prestigiosa cornice di Villa Menelao a Turi, la presentazione dei suoi vini. Bruno Vespa sceglie la Puglia e la sceglie anche con una serie di nomi che provocano sentimenti e emozioni. Beh sì, intanto questa è una regione che merita sentimenti e emozioni, io ho cercato di dare ai vini, intanto sono tutti vitigni autoctoni, tutti vitigni nati in Puglia nei secoli e qui sviluppate, questo per un'ora la Puglia e per il mio vecchio amore di 40 anni verso il territorio in cui nasce il vino. E poi i nomi sono evocativi perché raccontami che il primitivo più importante è il racconto, nasce dal titolo della trasmissione che facciamo noi figlio e io, ma è il racconto, il vino è il racconto, il vino è il confidenza, il vino è il romanticismo. Oppure Flarò che è il drosato è un onore a due grandi pugliesi, Flavia Pennetta e Roberta Vinci, due grandi tenniste ed è un drosato. Noi tre, lo spumante, 36 mesi, è stato dedicato, il nome l'ha trovato mia moglie, è stato dedicato a me e ai due figli. Insomma, ne facciamo. C'è anche il Bruno, no? Il Bruno che è il vino rosso che costa meno e io ho dato questo nome perché in genere i produttori danno il loro nome al vino più importante. Io ho scelto il vino entry level, proprio il vino d'ingresso perché essendo avuto io fortuna come giornalista nazionale popolare vorrei che il maggior numero di persone bevessero questo vino a quale viene riconosciuto un eccellente rapporto tra la qualità e il prezzo. Una serata speciale, una serata assolutamente fantastica dal punto di vista climatico, ma non soltanto come solo la Puglia sa offrire in primavera. Villa Menelao, un percorso che mette assieme la raffinata qualità dell'enogastronomia pugliese, come ci dice Michele Boccardi. Territorio, enogastronomia di qualità e cultura pugliese. Sì, è la sintesi di tutto quello che è sempre stata la mission da imprenditore da 22 anni a questa parte. Chiaramente da due anni penso a realizzare, proprio in virtù di quest'amore per la Puglia, questo percorso enogastronomico, lasciatemi dire un po' didattico, che è Menelao e le Commerse, dove tante realtà artigiane, le eccellenze della Puglia, vengono chiaramente a esprimere i loro prodotti. Oggi, chiaramente insieme all'eccellenza della gastronomia, abbiamo ritenuto di abbinare l'eccellenza del vino. I vini che oggi ha presentato Bruno Vespa, voi mi conoscete da tantissimi anni, se non erano buoni qua, non entravano a netto del nome. L'azienda di Bruno Vespa è a Manduria. I vitigni provengono sia dal comune del Tarantino che da Salice e Salentino.